Piano. Molto sneak. Pony davanti! Espy Pony! No! Via! Corri, corri, corri! È freddy di qua! Ok! Aspetta, io ritorno alla sala di controllo! Ok! Ce l'ho fatta! Oh mio Dio, ho bloccato Foxy! Per un pelo! Non ci credo! Luca, vedo qualcosa! Sembra essere un edificio! Che cos'è? Oh, è molto strano! Finalmente Espy Bussa! È molto allegro! Dai che ci dobbiamo riparare da questa quazzone! Ma che te frega che sono tutto bagnato! Ma non entrare così! Ma dannazione, Luca! Ma ti pare il modo per entrare? Ma hai visto che è temporale! Eh lo so, lo so, ma almeno un campanello, bussare qualcosa, ma dove ci troviamo? È una pizzeria per caso? Guarda! Eh beh, sì! Ci sono insegne di pizze ovunque! È per caso una sorta di McDonald's, di pizzeria dove danno qualche festa, qualche party, buongiorno! Ma le luci sono ancora accese a quest'ora! Speriamo che non le spengano! Signor custode! C'è un custode magari da queste parti? Signor custode! La porta era aperta, eh! Non è che ci possono dire su! Infatti! Oh, oddio! Ah, buongiorno! Hai visto chi c'è qui? Sono... sono degli animatronics! Ma che carini! Hai visto? Guarda! È proprio una pizzeria seria questa! Ci sono anche le pizze gratis! Vieni qua! Vieni qua, pizza! Non sono ancora abbastanza affamato! Dopo caso mai torniamo qua e mangiamo un boccone! Beh, che dici se passiamo la notte qui? Ma domani mattina potremo ripartire tranquillamente! Beh, dici che possiamo? Beh, teoricamente la porta è aperta, come hai detto tu, quindi non penso ci sia un particolare problema! Guarda! Che c'è? È pieno di telecamere! È vero! Come mai? Aspetta! Speriamo che non ci registrino! Beh, anche se ci registrano diremo che è stata un'emergenza! Aspetta! Aspetta! Prima di entrare! Ci sono un sacco di regole per la sicurezza! Ma... Ma... Tu vedi qualcosa? O sto diventando mio per io? Sono... sono... No, sono un po' scritte male! Espy, però... A parte le regole, mi sa che è meglio vedere se c'è qualcuno, perché... Sì, hai ragione! Non è che è giusto molto al sicuro, eh! Diamo un'occhiata qui dentro! Buongiorno! Anche qui tutto vuoto! Cos'è questa la cucina? Uh... Ma sono organizzati! Però è strano non trovare neanche un dipendente a quest'ora! Qualcuno che tiene d'occhio questa cosa! Non lo so, magari... Aspetta! Qua... Qua sembra esserci... Una sorta di... Strana tenda! Uh, salve! C'è un altro di quegli animatronic! Molto carini, ma anche inquietanti allo stesso tempo! Che dici se lo lasciamo... Lo lasciamo in pace! Ecco! Perfetto! Invece qui... Uh... Ah... Aspetta! C'è... c'è qualcosa di ancora più strano qui! C'è uno scheletro di metallo! È l'endoscheletro degli animatronics, forse! Mmm... È una parte all'interno! Per manutenzione! Ah, sì! Beh, in effetti! È strano che sia seduto così! In maniera... In maniera superumana! Come se si fosse appena... Appena... Luca, andiamo via! Perché mi sta inquietando questa cosa! Non c'è neanche un custode! E... E... Questi animatronic... Sono in strane posizioni! Almeno quello lì! E soprattutto questo tizio dietro la tenda! Tu hai notato qualcos'altro? Qui dietro guarda! 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 Uh! È tipo una... Una sala per... Per il controllo della... Della pizzeria! Per la sicurezza della pizzeria, forse! Sì! E guarda un po'! Porte blindate! Perché porte blindate? Che... Che... Che rischio corrono da queste parti? Tipo... Ladri? Ehm... Non lo so... Rapinatori? A persone troppo... Troppo affamate! Che vengono qui in cerca di altra pizza? Non so! Io direi di tenerle chiuse per sicurezza! Non si sa mai da queste parti! Sì, assolutamente! Anche perché... Qui non c'è nessuna telecamera di sicurezza! Io ho docchiato questa cassa! Quindi... Chiudendo queste porte... Nessuno ci potrà spiare! Mentre... Cosa sono? Dei tablet! Mamma mia! Questi possiamo rivenderli! Uh! Aspetta! Come funzionano? Posso... Selezionare le varie... No! Posso selezionare le varie telecamere! E guardare tutte le aree della pizzeria! Ah! Possiamo guardare i corridoi! Esatto! Tutte le telecamere che abbiamo visto prima Luca! Si possono controllare con questi tablet! Uh! Posso vederlo anche da te! Bellissimo! Mi chiedo però che cosa servono queste cose! Non lo so! Magari... Magari hanno veramente problemi di criminalità da queste parti! Vabbè! Sai cosa? Io vado un attimo in bagno! Quindi... Tu fai quello che devi fare! Ti aspetto qua! Si esatto! Casomai non lo so! Mettiti a cucinare qualcosa! Non sarebbe male! Sei molto brava come... Come donna da cucina! Quindi! Andiamo! Oh! Grazie! Quindi io vado a fare... Un... Un bel... Un bel... Un bel... Un bel... Un bel... Un bel pit stop diciamo così al bagno! E ci vediamo fra poco! Uh! C'è la pizza anche qui a quanto pare! Mmm! Non male la pizza da bagno! Ah! Finalmente! Aspettavo questo... Momento di privacy! In bagno da tutto il giorno! Da un... Così tanto! Che me la tenevo! Oddio! Oddio! Che è successo? Luca! Si sono spette le luci! E devo ancora pulirmi! Com'è che faccio? Espi! Dove sei? Sono in bagno! Arrivo subito! Vabbè mi tiro sui pantaloni! Chi se ne frega! Dove sei? Dove sei? Arrivo! Sto arrivando nell'atrio! Oddio! Oddio! Ok! Tutto a posto! È tutto buio! Sì! Credo sia saltata la corrente! Ok! Dobbiamo assolutamente trovare il generatore! Che poi questi animatronics sono ancora più inquietanti! Con il buio! Oddio! Oddio! Si sono animati! Corri! 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 Sapevo che c'era qualcosa di strano! Chiudi! Oddio! Oddio! Abbiamo rischiato! Abbiamo rischiato un sacco! Sapevo che c'era qualcosa di strano! Mi stavano fissando! Cosa? Ho visto i loro occhi che mi fissavano! Maledetti! E ora siamo qui imprigionati! Aspetta! Possiamo utilizzare i nostri tablet! Diamo un'occhiata a dove si trovano! Guardali! Sono qui! Li vedo attraverso le telecamere! Oh yes! Sono qui vicini? No no no! Per fortuna e per il momento sono lontani! E Luca! Dobbiamo approfittare di questa cosa! Perché come ben sai potrebbero arrivare qui da un momento all'altro! E tu hai una missione speciale da compiere per me! No no! Che missione speciale eh! Una missione specialissima! Allora! L'unica speranza che abbiamo di sopravvivere in questo posto! Perché io mi fido di queste porte pesanti! Ma mica tanto! Uh! Ci sono anche le luci! Che figata! Oddio c'è freddi! Guardalo! Dov'è? L'ho visto passare! Oddio! Mandalo via! Usa le luci! Non so la tua missione diventerà un pochino più complicata a questo punto! Ma ti dico! L'unica possibilità per sopravvivere sicuramente è avere un telefono con cui chiamare i soccorsi! E Luca! Tu sei il prescelto per andare a trovare questo telefono! Ovviamente fuori da questa stanza! Lì a sinistra c'è uno sgabuzzino! Non so se l'hai visto prima! Secondo me potrebbe esserci un telefono! Eh ma c'è pieno di animatronics Espi! Devi aspettare che si spostino! Aspetta ti do un'occhiata io con le telecamere! Ti dico subito! Allora camera 2A è libero! Puoi andare! Puoi andare Luca! Vado? Sì io continuo a controllare! Vai Luca! Puoi entrare! Chiuditi la porta Espi! Ah è vero! Cacchio 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 cacchio! Chiudo! Chiudo! Ho chiuso! Ok sono nello sgabuzzino mi senti? Sei dentro? Sì ti vedo perfetto! Vedi se trovi qualcosa di interessante! Un telefono! Ah un comunicatore radio satellitare non so! Oh tanta fuffa! Non c'è niente di... Aspetta! Un orologio! Ah! Eh sì! È uno smartwatch oppure no? Perché altrimenti non c'è molto utile! No è quello... Dai dai spiegati spiegati! Apri apri! Cosa ce ne facciamo di un orologio? Ma quindi segnalora e adesso è mezzanotte giusto? Sì sì! Ah perfetto! Beh allora sì non è utile quanto un telefono ma almeno possiamo tenere sotto controllo che ore sono! E così organizzare le nostre tattiche evasive dagli animatronics! Aspetta! Luca! Sto morendo di fame! Anch'io ho fame! Ok ok allora dobbiamo trovare un sistema! Un sistema! Dobbiamo assolutamente uscire perché c'è un sacco di pizza qui intorno! Dobbiamo trovare la pizza! E ovviamente evitare gli animatronics! Sto iniziando a prendere danno! Luca! Da quell'altra parte! Tu esci da quella parte! Io esco da questa! Buttiamoci! Sicuro? Sì! Ah no! Freddi! Via 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 da questa parte! Ok di cui è buono! Corri! Ok! Pizza! Pizza! Dove sono loro? Dove sono gli animatronics? Non lo so! Sono! Li sento vuole! Uh! Aspetta c'è Chica! Corri! Torna! Torna! Oh mio dio c'è Freddy che è mezzo glitchato nella porta! Ok! Freddy per cortesia non è il momento! Può andarsene da un'altra parte! Porca miseria! Ma hai visto? Chica di qua! Mio dio! Deve essere l'influenza degli animatronics ma ci sta venendo fame un sacco! Un sacco velocemente! Espi guarda! Che c'è? Non l'ho già scattato avanti! Uh! È vero non lo notavo quasi! Ma in effetti abbiamo fatto dei piccoli progressi! Verso la mattina! Sì ma continuiamo a aver fame! Luca non è possibile! Dobbiamo andare a trovare altra pizza! Dove? Dove? Dove te l'hai trovata? Ah! Io mi ricordo! Ne ho trovato un po' in bagno! C'è in bagno! C'è in cucina! Ah c'è anche nella stazione delle riparazioni! Nel ripostiglio delle riparazioni dall'altra parte della pizzeria! Però è tutto molto pericoloso! Uh! Mi sa che dovremmo trovare una strategia per artirare gli animatronics! Uno di noi deve fare da esca! E l'altro va a mangiare la pizza! E poi ci scambiamo! Dobbiamo utilizzare una tecnica del genere! Altrimenti non ne usciamo vivi! O moriamo di fame! O moriamo per gli animatronics! Che dici? Vabbè! Ci tocca! Proviamoci! Allora la stessa strategia di prima non ha funzionato ma- Ah no! No! Ho appena visto Freddy! Ho appena visto Freddy qua fuori! Ehm! Mi sa che usciremo entrambi da questa parte! Perché dalla porta destra sicuramente no! Andiamo? Che dici? Vai 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 vai! Ci proviamo! Corri 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 corri! Allora io non vedo nessuno! Vado qui! Vado alla cosa delle riparazioni! Allo stanzione delle riparazioni! C'è la pizza! Vieni qua! Mangia la pizza! Mangia la pizza! Mangia la pizza! Ok! 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 Attenzione! Attenzione che potrebbero essere ancora qui in giro! Ma dove? Dove si sono cacciati? Dove sono finiti Cica e Freddy che sono i più- I più ostici! E poi Bonny! C'è anche Bonny qui in giro! Sono scomparsi tutti! È vero! Oh mio Dio non è che ci stanno tendendo una trappola! Non è be- Eccoli! E' uno in cucina! Uno in cucina! Freddy in cucina! Oddio! Non ci ha visto! Corri 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 corri! Aspetta cammina addirittura sopra i tavoli! Attenzione! Io sto provando- Sì 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 io ritorno dentro! Io ritorno dentro! Chiudi chiudi chiudi! Ok! Giusto in tempo! Luca tu vai a sfamarti un po' e poi torna da me! Mio Dio questa notte sarà lunghissima! Aprimi! Entra entra! Ma hai per caso visto Cica o Bonny da qualche parte? Perché per il momento ci sono tanto Freddy! No li sento però! Anche io li sento! Li sento mormorare! Guaire! Muggire! O i versi che fanno gli animatronics! Devo assolutamente controllare dove si sono cacciati! Eh sì guarda se si sono nascosti! Allora... Non lo so dove guardare! Uh vedo Cica! Sta andando verso la hall! Sta andando verso la stanza principale! Ok! Quindi forse si sono messi lì per farci l'agguato! Aspetta fammi dare un'occhiata! Devo anche controllare che i corridoi qui accanto a noi siano liberi in modo che possiamo partire! Ok! Quello di destra sembra essere libero! In modo che possiamo partire per un altro ride! Verso la pizza! Andare a caccia di pizza! Perché stiamo morendo malissimo! Però fammi dare un'ultima controllata! Perché non mi fido molto! Ok! E potrebbe essere molto rischiosa come cosa! Ah! Luca? Eh sì! Sì! Per caso hai toccato la tetta di Foxy? Eh no! Perché si è aperta! E Foxy all'interno si sta muovendo! Oh no! Oh cacchio! No 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 no! No no no! Attento! Ah io sto morendo di fame! Attento! E dobbiamo correre verso la pizza! Andiamo! No! Freddi no! Chiudi! 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 Piano! Attento a Foxy sulla sinistra! Attento a Foxy! Attento a Freddy! Attento a tutti! Ciao Freddy! Via via via! In cucina! In cucina! In cucina! Ok! Perfetto! Perfetto! Secondo te sanno aprire le porte! Non credo! Ok! Altro po' di pizza! Abbiamo finito la pizza anche di qui! Porca miseria! Non dureremo tanto! Che schifo! Sono cipo marcio! Ah! L'unica cosa è che c'è questa carota! Poi per il resto fa abbastanza schifo! Che dici? Vabbè tienila tu la carota! Sembra che tu non abbia più bisogno di me! Grazie! Ma ecco dove è finito Bonnie! C'è anche cica! Ma sono lì a fare! Ma dai! Ma sono lì a accogliere i clienti! Sono esattamente nella zona in cui si mette la segretaria per accogliere tutti gli ospiti della pizzeria! Oh che cacchio è insomma! Quindi! Dobbiamo tornare a vedere l'orologio! Esatto! Dobbiamo tornare a guardare l'orologio e soprattutto la pizza che c'è in bagno! Mi sa che sarà fondamentale per riuscire a sopravvivere fino alla fine! Potrebbe essere un'ottima occasione! Dai Freddy vai dall'altra parte! Guarda! Sta andando nella hall! Sta andando nella hall! È un'ottima... È un'ottima... Ok! Io li distraggo! Io li distraggo! Tu corri in bagno! Tu corri in bagno! Sto corriendo al bagno! Vai a prendere la pizza! Ci sono! Entra! Entra che ti chiudo la porta! No no no! Non posso entrare in bagno! Aspetta! Io ritorno alla sala di controllo! Ok! Ce l'ho fatta! Oh mio Dio! Ho bloccato Foxy! Per un pelo! Non ci credo! Aspetta! Forse ho bloccato sia Foxy che Bonnie all'interno di questa porta? Oh! Davvero? Luca forse è una buona occasione! Forse lì ho confusi! E io riesco ad arrivare da te! In che corridoio sono Espy? Allora per il momento non li vedo ancora attraverso le telecamere! Dov' un'occhiata alla telecamera! Uh! Ti vedo! Ti vedo! Sei qui! In bagno! Scusa se ti spio mentre vai in bagno! Ah! Guarda ho una pizza per te! Vuoi vedere? Ciao! Come va? È bellissima questa cosa! Beh oddio in realtà non è molto bella! Perché stiamo per morire! Perché io sto rischiando la vita! Ho veramente pochi cosciotti! Quindi sbrigati a tornare qui! Io intanto do un'occhiata! Eh dimmi se c'è qualcuno davanti al bagno! Appunto aspetta aspetta sto guardando! Allora il corridoio sinistro è pulito! Perfetto! Il corridoio destro è pulito! Mi sa che sono tutti vicino a te! Sì sì li vedo! Sono davanti alla porta del bagno! Ti stanno aspettando! Sono in due! Ci sono Freddy e Foxy che ti stanno aspettando all'uscita del bagno! Luca ho un'idea! Li distraggo così puoi uscire e portarmi la pizza! Ok! Bisogna per forza fare così! Aspetta ma sono andati via! Puoi uscire! Sbrigati! Corri! 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 Se ne sono andati! Non so come mai! Corri! Corri! Entra di qua! Chiudo! Fatto! Era qua di fianco! Espi guardala! Hai portato questa pizza! Oh sì! Finalmente! Finalmente la mia pizza! Ok! 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 Sembra anche che la fame stia migliorando Luca! Non ne sto più perdendo così tanto! Anch'io! Anch'io! Forse è il giorno che si sta avvicinando! Sì! Hai visto infatti l'orologio! Perfetto! Però! Aspetta ma com'è che usciamo da questo posto? Direi che è venuto il momento di farci coraggio e provare a uscire! Che ne dici Luca? Se soltanto se ne andassero è libero! Uh! Perfetto! Secondo me quello di destra è perfetto come corridoio! Direi di andare velocemente! Corri! 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 Non guardarti dietro! Oh no! C'è Freddy! C'è Freddy davanti! Slalom fra i tavoli! Ah no aspetta ma ha incastrato! C'è Foxy in bagno! Ho chiuso Foxy in bagno! Ciao! Ciao! Ah no! Mi ha messo nell'angolo! Mi ha colpito! Ah! Corri! Corri! Corri in cucina! Via 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 via! Sono riuscito a chiudere Foxy in bagno Espy! Cioè hai chiuso Foxy in bagno veramente? Sì! Sì io chiudo la porta in faccia! È un'ottima è un'ottima strategia questa! È perfetta come cosa! Aspetta che io provo a girare! Potremmo chiuderli in cucina! Abbiamo fatto! Possiamo sfruttare questa cosa al nostro vantaggio! Attento! Attento Freddy! Guarda guarda! Adesso lo attiro! Oh no! C'è la con te! C'è la con te! No 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 no! Giro giro tondo! Giro giro tondo! Prendilo tu! Prenditelo tu! No! No! C'è la proprio con te! Cacchio ma non c'è un modo per uscire da questo posto! Non c'è niente lì alla porta! No niente! Né un interruttore né niente! Luca! Abbiamo un nuovo problema! Siamo riusciti a scappare dagli animatronics! Ma per il momento ovviamente ma non ho trovato assolutamente un modo per uscire da questo posto! Potrebbe essere veramente difficile! Deve esserci non lo so un sistema un meccanismo una chiave da inserire all'interno della porta d'ingresso per permetterci di passare di uscire da questo postaccio! Però non so non so assolutamente dove sia! Cosa può essere? Beh in teoria dovrebbe essere qui! Però... Assolutamente! Da qualche parte! Ma non penso in questa sala perché l'abbiamo perquisita e l'abbiamo soprattutto... Ci abbiamo trascorso un'intera notte e ormai la conosciamo a mena dito! Direi che è nascosto da qualche parte! Però una cosa che potremmo effettivamente fare è rinchiudere qualche animatronics magari in cucina o in bagno per semplificarci il lavoro perché altrimenti è impossibile andare in giro a cercare questa chiave con queste animatronics che vanno costantemente in giro! Che dici? Andiamo a rinchiuderli in cucina? Te la senti tu? Vai! Andiamo! Sì sì sì! Vai! Vai 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 vai! Ecco... Oh no! Ok! Sono in due! Sono in due! Non è che riesce a rinchiuderne due insieme? Sì! Bonnie è dentro in cucina! Davvero! L'hai chiuso in cucina! Sì sì sì! Perfetto! Anche Bonnie è andato! Anche Bonnie è andato! Adesso rimangono soltanto Cica e Freddy giusto? Perché Foxy è chiuso in bagno! Tanta paura! Tanta paura Luca! Loro dove sono? Non lo so! Aspetta ma non è che c'è un animatronic chiuso qui dentro? Eccolo! Eccolo c'è Freddy dietro di te! Oh no! No no no! Devo scappare! Aspetta mi rifugio qui dentro! Mi rifugio nelle tende! Chiuso! Ok! Teoricamente dovrei essere al sicuro! Ok! Ah tu cercate di distrarlo! Ma... Qui c'è una cassa! Vabbè lo sto... Lo sto tenendo occupato! Ho trovato... Come una cassa! Ho trovato un bottone nella cassa! Non è che potrebbe essere la chiave che ci serve per uscire! Ok! Io esco! Tuttimelo distante! Vai vai vai! Espi sto correndo! Ma Cicca dov'è finita? Credo che l'hai chiusa nello stanzino! Davvero ce l'ho fatta veramente! Ok! Mi fido mi fido mi fido! Allora! Andiamo corriamo un attimo! Verso la sala di sicurezza! Per fare il punto alla situazione! E poi siamo praticamente pronti alla fuga! Allora Luca! Dobbiamo organizzare il piano! Il piano della nostra evasione! Ormai è giorno! Basta! Quindi praticamente dovrebbe essere quasi l'alba fuori! E noi dobbiamo sbrigarci! Per riuscire a piazzare questa maledettissima leva! O bottone che sia! Alla porta d'ingresso per riuscire a scappare! Ok! Dove consigli di procedere? Usiamo la nostra solita tecnica del uno distrae e l'altro colpisce? Tu distrai e io colpisco? Sì sì! Facciamo così! C'è solo Freddy! Eccolo là però! Ed è lì! Sprinta! 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 Corri! A girare! A girare! Oddio! Leggermente distratto! Leggermente strafatto! Colpiscilo! Bravo! Io lo aggiro e piazzo il bottone! Vai! Ok! Ok! Lo piazzo qui! Dovrebbe funzionare! Sì! Ha funzionato! Luca! Diamo la via di fuga! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Finalmente siamo fuori! Guardalo! Come ci osserva! E non riesce a uscire da questa pizzeria! Non c'è alcuna speranza per lui! Mi spiace ciccettino! Oh! È sparito! Ma! Sta sorgendo il sole! Guarda! È l'alba! Ce l'abbiamo fatta! Beh la nebbia è rimasta da ieri sera! Ma ce l'abbiamo fatta! Siamo sopravvissuti! Oh mio Dio! Beh in effetti abbiamo realizzato quello che ci serviva! Abbiamo mangiato pizza gratis! Siamo sopravvissuti alla tempesta fuori all'acquazione! Siamo sopravvissuti agli animatronics dentro! Ah! Sì! Abbiamo rischiato un sacco! Ma ne è valsa la pena! Non pensi? Mh mh! Ne è valsa sì la pena! Abbiamo anche mangiato gratis! Che dici? Facciamo qui il nostro compleanno il prossimo anno! Sì! Non vedo l'ora di tornarci! Questo posto mi è piaciuto un sacco! Quindi gente! Questa era la pizzeria di Five Nights at Freddy's in Minecraft! Spero che sia piaciuto! Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti qui sotto! Se volete altri episodi come questo! E noi ci vediamo la prossima volta! Ciao ciao!